Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Grande fratello VIP, il reality show di Canale 5 che ogni anno fa parlare di sé, nell'edizione 2023 però, condotta come di consueto da Alfonso Signorini, sta succedendo davvero di tutto e nelle ultime ore la produzione ha deciso di ricorrere a un intervento più avanti. Si tratta, come riportato da fanpage.it, della cancellazione di una puntata intera. È stata fatta sparire da sito ufficiale la puntata integrale di giovedì 2 marzo. In quell'episodio, dunque non più disponibile in replica, sono accadute molte cose come il durissimo rimprovero in diretta di Signorini a tutti i concorrenti per comportamenti sgradevoli e altre liti tra vipponi e opinionisti. La decisione di rimuovere l'episodio è stata di Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset. Il motivo della cancellazione, stando a indiscrezioni, l'amministratore delegato del Biscione non si troverebbe d'accordo con alcune scelte autoriali inerenti a quella puntata specifica, l'unica cancellata dal sito. E tra le motivazioni ci sarebbero l'eccessiva volgarità e il numero troppo alto di parolacce andate in onda. Non si tratterebbe quindi di un dissapore con il conduttore Alfonso Signorini, con il quale il rapporto è ottimo, né di altri tipi di reazione. Una sorta di mossa in nome del pubblico, fino alla prossima polemica.